Una struttura capillare, secondo gli investigatori, ben radicata a Mazzarino con i San Filippo, che avrebbero imposto estorsioni e controllato attività economiche e la filiera dei contributi per il settore agricolo. I PM della DDA di Caltanissetta hanno chiuso le indagini nei confronti di circa 50 coinvolti. L'inchiesta Chimera si estese anche a professionisti insospettabili che avrebbero avuto rapporti diretti con i San Filippo. I PM dell'antimafia e i carabinieri arrivarono anche in città. Tra i coinvolti ci sono il 39enne Emanuele Brancato e la consorte. Brancato è inserito tra i presunti fornitori principali di droga destinata ai San Filippo. In base alle contestazioni ci sarebbe stato un rapporto costante per far arrivare partite di stupefacenti nelle piazze mazzarinesi. Un affare che avrebbe messo in contatto Brancato per il tramite dei San Filippo anche con fornitori calabresi. Il 39enne nel recente passato coinvolto in altre indagini di droga in fase di indagine ha escluso l'appartenenza al clan. Una posizione che in parte è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione sul ricorso della difesa sostenuta dall'Avvocato Giacomo Ventura. I giudici romani hanno disposto l'annullamento con rinvio nuovamente magistrati del riesame di Caltanissetta che lo scorso anno avevano respinto le richieste difensive rispetto alla misura della custodia cautelare in carcere. Secondo i giudici romani va valutato il punto legato alla contestazione mafiosa. Per la difesa Brancato non avrebbe mai avuto rapporti con il gruppo di mafia dei San Filippo né può ritenersi un associato. Sono state richiamate pronunce emesse in altri procedimenti che toccarono il 39enne nelle quali non si fa mai accenno ad un'eventuale appartenenza mafiosa. Il riesame dovrà esprimersi nuovamente mentre i PM dell'antimafia Nissen hanno chiuso le indagini e potrebbero a breve formulare la richiesta di rinvio a giudizio. Nel corso dell'inchiesta Chimera si approfondirono i particolari anche di un omicidio collegato sempre al gruppo dei San Filippo. Un caso di lupara bianca che per gli investigatori sarebbe da inserire nelle dinamiche dello scontro tra clan.